Riscattare la laurea ai fini pensionistici è una cagata pazzesca! Sono costretto a fare questo video perché ci sono tutti quei genitori boomer che hanno una mentalità così radicata, radicata, radicata negli early 90s, nei primi anni 90, che insistono con i figli, riscatta la laurea, riscatta la laurea, ma soprattutto riscatta la laurea finché guadagni poco. Questo perché fino al 96, e quindi 25 anni fa, tanto radicata che non si riesce a stirpare, c'era il paese delle vacche grasse, tu riscattavi la laurea pagando pochissimo, quegli anni lì ti mandavano in pensione anni prima e come pensione prendevi una pensione che non dipendeva assolutamente da quanto avevi versato, dipendeva solo dal reddito degli ultimi anni. Adesso è cambiato tutto, è cambiato tutto, adesso riscatti la laurea, non vai in pensione prima e la tua pensione dipende da quanto versi, quindi riscattala pagando una miseria e poi prenderai una miseria di pensione. Ma comunque riscattare la laurea in generale non conviene mai dal punto di vista finanziario e lo vediamo subito con due piccoli conti. Ecco qui un programma di altissima intelligenza artificiale chiamato Excel. Ok, questo è il costo del riscatto di laurea secondo le condizioni agevolate dell'Inps attualmente, 5200 euro all'anno, supponiamo 4 anni, sono diversi, potete cambiare tranquillamente. suppongo rimanchino 40 anni alla pensione, anche qui si può cambiare tranquillamente. E benissimo, allora quanto vi costa riscattare la pensione? Beh, 5200 per 4 in questo esempio, 20.000 euro. Ok, questo tanto per iniziare smentisce subito il genitore boomer che dice paga subito così paghi meno. No, la cifra da pagare è indipendente dal vostro reddito. Questo perché poi non si fa più il giochetto dell'epoca del 1995. Però attenzione, perché su questi 20.800 euro che voi date all'Inps, Maramero, lo Stato vi chiede le tasse. Esatto, tassate un contributo providenziale. Ve ne chiede metà. Cioè vedete, metà della cifra è tassata. Dicendo anche di farvi un favore, diceva sconto fiscale sul 50%. Sì, vedremo poi come ve la prendete nel deretano questo sconto fiscale. Quindi ci dovete pagare pure 2.808 euro di tasse. Benissimo. A questo punto l'Inps prende questi 20.800 euro e cosa fa? Ve li rivaluta, anno dopo anno. Di quanto? Ve li rivaluta in base a quanto incrementa il PIL italiano. Io ho fatto un 1%, che più o meno, diciamo, ci siamo. Ecco qui la cifra. Questa è la famosa formula di interesse composto. Ok, vi viene, dopo 40 anni, la bellissima cifra di quasi 31.000 euro. Ecco, normalmente l'Inps, questi 31.000 euro, ve li spalma mese per mese, con 13 mensilità all'anno, fino a quando siete in vita. Quanto vi dà esattamente mese per mese? Beh, vi dà in base alle tabelle demografiche di quando andate in pensione. Quindi, quant'è la vostra aspettativa di vita? Ok, dal punto di vista finanziario, queste due cose sono esattamente equivalente. Quindi, è esattamente equivalente che ve li dia subito, o è esattamente equivalente che ve li centellini mese per mese, dal punto di vista finanziario. Quindi, ci concentriamo su questo. Però, magari vi desse questa cifra. No, no, ve la tassa. Ve la tassa. Perché anche la pensione è tassata. Io mi sono preso qui un'aliquota marginale del 27%, sia mentre lavorate, sia mentre siete in pensione. Poi vedremo delle piccole variazioni. Ve la tassa, quindi vi toglie il 27%, ecco qui, 19.798 euro. Vediamo se invece questi 20.800 euro non li usate per riscattare la laurea. Beh, prima di tutto vi vengono tosati per bene con l'aliquota europea, 27% sempre preso. 15.000 euro. Pagate il doppio di tasse rispetto a quanto pagate qui, eh. Però vedremo che le pagate una volta, se non altro. Perché poi questi 15.184 euro li investite. A quanto? Beh, anche se siete degli investitori veramente scadenti, ma scadenti, ottenete un 4% netto. Vogliamo fare il 3%? Investitori scadentissimi. Qualunque ETF azionario vi dà di più. Magari non italiano. Qualunque ETF azionario mondiale vi dà sicuramente di più. Quanto fa dopo 40 anni? 49.580 euro. Tassati? No, sono netti. Punto. Cioè, questo è il rendimento netto. Basta. Siete già stati tassati qui. Faccio notare che, quindi, uno, il problema sta qui. Nel fatto che un rendimento dell'1% è ridicolo. Ok? Due, il problema sta qui. Nel fatto che voi prendete 19.698 euro, sì, e in più ci avete pagato 2.800 euro di tasse prima. Nel fatto che, quindi, i vostri contributi providenziali extra sono tassati una volta, la vostra riscatola Lara, o meglio, mezza volta qui, mezza volta, e poi una volta qui. Quindi una volta e mezza. Mentre qui sono tassati una volta sola. Cioè, vi fanno credere che state risparmiando tasse qui, perché effettivamente sono tassati solo mezza volta, ma poi saranno ritassati quando andate in pensione. Ok? Posponete le tasse, però, anche considerando questo. E vi faccio vedere un'altra cosa. Anche considerando che vi siete gli investitori pessimi, quindi 2%. 2%, secondo me, è meno di un buono del tesoro a 40 anni. Un buono del tesoro a 40 anni rende più del 2%, netto, eh. Anche col 2%, 33.000 contro 19.000. Ok? Vediamo con l'1%. Faccio notare che anche con l'1% guadagnate di più. Perché? Perché sono tassati una volta sola. Molto semplice. Rimettiamo un più onesto 4%. Ora, vediamo quello che è il cavallo di battaglia del buon genitore Boomer. Adesso, adesso che guadagni poco, più avanti che guadagnerai tanto, no. Va benissimo. Allora, supponiamo che voi adesso guadagnate poco. Quindi avete un'aliquota marginale IRPF, faccio un 10%. Ecco, un'aliquota marginale IRPF, faccio un 10%. Per metà qui e per intero qui, quindi incide molto di più qui. Quindi, esattamente quando state guadagnando tanto, poco, non vi conviene riscattare. Cioè, ci sono soltanto, diciamo, un caso e mezzo in cui vi conviene riscattare. Il caso in cui vi conviene riscattare, sempre, sempre, è il caso in cui avete le mani completamente bucate. In quel caso, non riuscite quindi a investire. Cioè, questi 20.800 euro ve li spendete immediatamente. O meglio, questi, 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 rimettiamo le aliquote al 27. Ah, anche facendo un'aliquota al 42 qui, nel caso adesso stiate guadagnando tanto, comunque, 57.000. Rimettiamo le aliquote al 27. E quindi, se avete le mani completamente bucate, questi 15.000 ve li spendete subito. Io, in questo caso, sì che conviene riscattare, perché avrete qui non 72.000, ma 0. Ok? E' sempre meglio avere ne 19.000 che non 0. Faccio notare, peraltro, che vi conveniva lavorare in nero e mettere i soldi sotto al materasso, eh. Ma, ovviamente, lavorare in nero è illegale. Mezzo caso in cui vi conviene riscattare è il caso in cui puntiate alla famigerata quota 100. Voi non lo sapete perché non è a vostro interesse, però quota 100 vuol dire che andate in pensione con l'età anagrafica più età e il numero di anni di contributi versati pari a 100. Ecco, peccato che la quota 100 stia per essere eliminata. E comunque, detto onestamente, anche se resterà in vigore, supponiamo che resterà in vigore questa famigerata quota 100, voi cosa fate? Quando vi mancano 6-7 anni alla pensione, a quel punto avrete un'aliquota marginale del 38% perché sarete ricchi, se guadagnerete tanto, vi mancano, facciamo un 7 anni alla pensione, ok? Voi cosa fate? A quel punto riscattate, a quel punto riscattate, vedete che a quello riscattare a quel punto, quando mancano solo 7 anni alla pensione, la differenza qui non è più così ingente, ci rimettete 4.600 euro e andate in pensione 4 anni prima, beh, 4 o se siete dei millennial, 3 o 5 addirittura, 3, 5, quindi con il netto vantaggio che la differenza qui non è più così mostruosa come prima, quindi doppio vantaggio, potete decidere dopo, quando sapete già quali saranno i criteri dell'Inps, perché vi dico che in Italia ogni 4 o 5 governi, il che vuol dire ogni 6-7 anni cambia la normativa sulle pensioni in maniera confusionaria di solito, quindi questo è l'unico mezzo caso in cui conviene riscattare, però aspettando di essere veramente a ridosso alla pensione, quindi esattamente il contrario di quello che vi viene detto.